Musica Bentornati a Bullissimo, il nostro speciale sui fenomeni di bullismo che stanno dilagando nelle nostre scuole italiane. Oggi abbiamo con noi la psicologa sociale dottoressa Paola Morelli e l'opinionista Marco Del Dubbio. Buongiorno. Lasciamo la parola alla dottoressa Morelli. Grazie. Secondo studi recenti, gli insegnanti sono poco consapevoli del problema bullismo nelle scuole in cui lavorano. Ciò può essere spiegato dal fatto che il bullismo è un fenomeno nascosto di cui le stesse vittime non fanno parola perché temono di peggiorare la situazione. Bene, per spiegare meglio questi comportamenti, vediamo cosa è successo alla scuola media di Pallanza. È luogo comune pensare che il bullismo si verifichi soprattutto tra maschi, ma sono sempre più frequenti questi fenomeni tra le ragazze, sotto forma di esclusione e di emarginazione psicologica. Benissimo, il filmato che abbiamo appena visto è stato realizzato dalla scuola di Domodossola, che dimostra una storia eletofine. Purtroppo non è sempre così e lo vediamo nel prossimo filmato della scuola media di Pieve Vergonte, che mostra la reazione del gruppo nei confronti delle bulle. Un messaggio che mi sento di dare a tutti i ragazzi è quello di imparare a sdramatizzare di fronte a certi fenomeni. La risata e l'ironia sono ottimi strumenti per vivere meglio il gruppo e il proprio rapporto con gli altri. Ringraziamo la scuola media di Omenia per il contributo dato. Concludendo, si può affermare che un programma efficace di prevenzione del bullismo deve agire a livello di scuola, di classe e individuale, con l'obiettivo di creare un nuovo ambiente sociale dove il bullismo sia completamente rifiutato. In questo processo sono elementi importanti la creatività, la flessibilità e la presenza degli adulti. Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Bullissimo. Arrivederci! Arrivederci e grazie! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.